Io mi chiamo Alessandro Avanzini, ho 57 anni e sono figlio di Silvana Avanzini. Io sono un perito elettrotecnico e quindi ero destinato a tutte altre situazioni. Nel 2000 è morto mio padre e ho deciso di continuare questo lavoro negli anni fino ad oggi che è il 2017. Devo dire che negli anni ho cercato di fare quello che faceva mio padre dal punto di vista espressivo. Poi la curiosità, la voglia di raccontare anche cose diverse ha generato in me la necessità di migliorare, di professionalizzare questo lavoro. Per poter comunicare al Carnevale bisogna raggiungere la pancia delle persone nel giro di qualche decina di secondi. Se riesci a fare questo probabilmente guidi il pubblico se non racconto che te fai. Io non lo faccio per scandalizzare, te lo sto trattando a un tema duro e bisogna che usi un linguaggio adeguato perché se non funziona il carro, se non emoziona, se non arriva una compassione verso le persone che sono vittime di violenze, di guerre, allora non ha senso che abbia scelto questo tema.